Approvato in giunta regionale il provvedimento per abbattere le liste d'attesa in Puglia, previo accordo con i sindacati, si punta alla nuova organizzazione del lavoro e a consentire per tutti gli operatori sanitari prestazioni aggiuntive straordinarie rispetto al turno ordinario. Riteniamoci che dopo l'accordo con i sindacati si debba procedere anche nelle quote pomeridiane, nelle ore notturne, sabbi, domeniche, c'è tutto per poter abbattere le liste di attesa. Questo piano deve essere anche varato dai direttori generali entro la fine di marzo, se i direttori generali non lo faranno a quel punto scatteranno gli interventi sostitutivi di commissariamento ad acta da parte della regione, da parte del dipartimento e però anche l'avvio del procedimento di decadenza dei direttori generali. Chiarisce anche sugli screening oncologici l'assessore, nessuno stop, ma... È successo che ci sono alcune leggi regionali, che sono sotto il vaglio anche della Corte Costituzionale, che allargono la fascia di età. Occorre però che ci sia anche un passaggio di autorizzazione rispetto al piano di rientro per deficit eccessivo sulla spesa sanitaria da parte della regione pura, da parte del Ministero della Salute e da parte del MEF. Ora, in attesa di queste autorizzazioni, era partita una nota da parte del Dipartimento con cui si sospendevano. La Giunta ha ritenuto invece che si possono continuare anche questo allargamento delle fasce di età, perché si tratta dell'allargamento, perché tutti gli altri lo fanno tranquillamente, senza nessun problema. Questo allargamento, che era stato sospeso, è stato ripristinato in attesa di ciò che ci dice Roma. Roma